Iniziamo a livello istituzionale ma mai formale il nostro segretario generale Massimo Provinciali. Prego, fa il padrone di casa. Buongiorno a tutti, benvenuti. Porto innanzitutto i saluti del presidente Giuliano Gallanti che purtroppo non può essere qui per piccoli inconvenienti di salute. È una giornata importante, è la seconda giornata che il porto di Livorno, e dico il porto più che l'autorità portuale perché c'è un senso di condivisione dei temi che tratteremo in questa giornata molto forte con operatori, istituzioni e associazioni. È la seconda giornata che il porto di Livorno dedica al tema dell'innovazione tecnologica. Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da un evento che sicuramente è importante per il porto di Livorno, il piano regolatore, gli sviluppi infrastrutturali che insomma suscitano anche qualche spunto di discussione e anche a volte molto forte. Io spero vivamente che tutta questa discussione su uno dei temi, un tema come dicevo storico che riguarda il porto di Livorno, non distragga e non tolga l'attenzione dalle tante altre cose che si fanno sul porto di oggi, che si fanno sul porto che sta lavorando, che si fanno nel porto che sta dalla fine del 2014, dagli ultimi due o tre mesi del 2014, mostrando degli evidenti segni di inversione di tendenza rispetto alle negatività degli anni dal 2008 al 2013 e che sono cose che hanno riguardato non solo anche qui un po' di manutenzione e di ammodernamento infrastrutturale ma molto, moltissimo il tema dei servizi alla merce perché il porto è un luogo dove si vendono servizi, servizi alla nave, servizi alla merce. Servizi alla nave e alla merce hanno bisogno di innovazione tecnologica così come le banchine hanno bisogno di innovazione infrastrutturale e con una punta di orgoglio che non è orgoglio personale perché noi rappresentiamo l'amministrazione solo da qualche anno ma l'autorità portuale da tempo lavora su questi temi, con un po' di orgoglio professionale di ente posso dire che su questi temi l'autorità portuale di Livorno, riuscendo a fare da pivot al sistema delle imprese, al sistema delle istituzioni, al sistema dell'intelligenza e del mondo accademico è sicuramente una realtà leader in questo settore. TPCS, registri elettronici, servizi di Port Monitoring System e quant'altro sono realtà che la nostra comunità portuale oramai conosce e soprattutto utilizza da tempo. La tecnologia non si ferma mai per cui non avremo mai un punto d'arrivo, non avremo mai un momento in cui diremo bene abbiamo fatto ci possiamo fermare, ci sarà sempre una nuova sfida da intraprendere, ci sarà sempre qualcosa di nuovo e qualcosa da migliorare. Ma il Porto di Livorno nell'insieme di queste categorie è presente ai primi posti delle classifiche non solo italiane ma anche credo mediterranee ed oltre ed è un dato fondamentale quello che emerge dalla considerazione che questi temi, come accennavo prima, coinvolgono non solo l'amministrazione autorità portuale, non solo chi lavora a stretto contatto con la merce nel porto, le imprese che fanno le operazioni di carico e scarico merce, le imprese che lavorano intorno al mondo nave, agenti marittimi, raccomandatari, ma coinvolge un panorama che non chiamerei indotto perché è un contributo diretto di imprese che fanno innovazione tecnologica a prescindere e in questo caso applicata al porto. Noi in questi temi coinvolgiamo, abbiamo coinvolto, siamo partner intellettuale ed industriale di soggetti come l'Istituto Santa Anna, il Centro di Biologia Marina, cioè di eccellenze del mondo accademico e didattico, siamo partner industriale di imprese come quelle che ci aiutano a sostenere questa manifestazione, i cui stand avete visto qui fuori, che si impegnano su temi che per noi hanno una ricaduta commerciale in termini di attività portuali e che per loro sono il core business dell'innovazione. L'altro elemento che mi piace sottolineare, oltre a questo tema della condivisione di realtà fra loro così diverse, è il fatto che ci sia una fortissima presenza di realtà che gravitano su questo territorio. Non necessariamente andiamo a cercare o a collaborare con realtà di altissimo livello ma magari distanti, questo territorio mette a disposizione della comunità portuale capacità accademiche e capacità industriali di altissimo livello, i cui risultati consentono al porto di Livorno di inserirsi, come dicevo, ai primi posti per questi temi. L'innovazione tecnologica è una delle grandi chiavi di successo di un porto nel futuro perché l'espansione infrastrutturale prima o poi raggiungerà dei limiti fisici, non si potrà, questo è stato detto tante volte anche in passato, né il gigantismo navale né il gigantismo portuale potranno proseguire all'infinito, ci sarà un momento, un tema in cui ci si fermerà o scelte politiche indurranno a non inseguire alcuni fenomeni. L'innovazione tecnologica temo, credo, spero che non finirà mai. Su questo tema ci sarà sempre qualcosa da migliorare perché? Perché alla fine la merce viaggi più sicura, perché alla fine la merce viaggi più velocemente, perché alla fine la burocrazia sia più veloce e più dinamica, perché le informazioni non hanno bisogno di essere accompagnate da carta o da oggetti fisici. Quindi questo è il tema che ci si pone davanti. Non è un obiettivo finale, non è un... è un mondo che stimola, secondo me, la riflessione e l'innovazione. Quindi credo che anche per loro ci siano dei margini di soddisfazione, al di là di quella sacrosanta economico-commerciale e anche di successo intellettuale. La giornata è molto intensa, quindi non rubo altro tempo. Auguro a tutti un buon lavoro, riusciamo ancora una volta ad utilizzare questa cornice della Fortezza Vecchia, che oramai è un po', la sentiamo come la casa della portualità e degli eventi, perché a scadenze ravvicinate ci incontriamo per parlare di cose che ci coinvolgono. Auguro a tutti buon lavoro e buona giornata. Passo la parola al sindaco Nogarin per il suo...